Non c'è niente da fare, passeggiare per il Motorbike Expo è una continua emozione di sensi, profumi del cibo, rumori del rombo delle moto, colori delle customizzazioni. Motorbike Expo comincia oggi, finisce domenica, immancabile, imperdibile. Autore dei sottotitoli a cura di QTSS Autore dei sottotitoli al nostro canale 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 La nuova SD600X Lorena Bingo, cosa ti piace del Motobank Sport? Ritrovali tutti i miei clienti Oh no, grazie! Chi motociclisti? Il Colwin Le persone ci sono qui oggi Beh sicuramente il cavendone delle spalettone l'ho trovate da Gigi Ciao a tutti È la mia moto da Porsche allo stand 4, allo stand di Special Caffè E il Gilera che è andato a Bonneville con la moto mio Ciao! Mi piace che anno dopo anno ti viene sempre più voglia di tornarci La familiarità e lo star bene in compagnia tra un misto proprio tra la passione e proprio quello che è la style del motociclista quello dello stare bene, ridere, mangiare bene, stare in allegria e vedere anche delle gran belle moto Ovviamente le moto è la natura Spettacolo A moto mio Motobank Sport Stentano Bingo Che cosa ti è piaciuto di più? Motobank Sport Bellissimo Allora a moto mio Mi viene detto a Cacchionino Che cosa ti è piaciuto del motorbike sport? Il campionato nazionale street race Approvato Perfetto Perfetto Grazie 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 Grazie